Due giorni per discutere di rilancio dell'agricoltura attraverso un impegno comune con il seminario di rilanciare l'agricoltura attraverso un impegno comune organizzato dalla FAE, la Federazione Agroalimentare Industriale e Ambientale della Cisla e dalla Fondazione FAE Cisla Studi e Ricerche. Ieri la prima giornata di studio che ha visto riunite tutte le federazioni regionali della FAE Cisla del Sud Italia, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia. Oggi la visita ad un'azienda agricola di Bellizzi ed una di Pestum. Noi siamo impegnati nel rilancio del lavoro agricolo. Il lavoro agricolo è stato in questi ultimi anni un asset strategico per tutto il Paese. È stato l'unico settore che comunque è riuscito a rimanere in equilibrio dal punto di vista economico e ha garantito anche livelli occupazionali. Noi chiediamo a tutti quanti un patto di responsabilità affinché il settore agricolo insieme all'industria alimentare e alla cura del territorio per cui i temi ambientali che vuol dire consorsi di bonifica e servizi forestali tornino nell'agenda del governo e delle regioni come una priorità perché da qui si può rilanciare il Paese. Molto si sta facendo, PSR, incentivi per i giovani, giovani imprese, imprenditori quarantenni, però c'è su questa piaga anche del lavoro nero. Noi abbiamo contrastato il lavoro nero. Abbiamo lanciato quest'anno un numero verde che si chiama SOS Caporalato che è un numero che ricordo a tutti 800, 199, 100 perché al proprio interno contiene il 199 che richiama la legge contro il Caporalato. È stata una battaglia importante che abbiamo condotto quest'anno. Invece siamo molto delusi perché il governo ci aveva garantito che avrebbe messo all'interno della legge di stabilità l'istituzione di un tavolo contro il contrasto del Caporalato. È un articolo che era inizialmente presente all'interno della legge che poi quando invece è stata bollinata per la pubblicazione è scomparso. Per cui richiederemo, torneremo alla carica su questo tema perché è un problema importantissimo non soltanto per il lavoro che rappresentiamo, il buon lavoro che rappresentiamo, ma anche per il male che fa, il dumping che crea tra le imprese regolari e quelle irregolari. Infortuni sul lavoro, anche decessi, anche qui una battaglia concreta da parte della CISL. La sicurezza sul lavoro è al punto numero uno dell'agenda del nostro impegno sindacale. Purtroppo il lavoro agricolo è uno fra i settori insieme a quello del lavoro edile più sottoposto al rischio legato alla sicurezza sul lavoro. Per cui qui si contrasta non con la demagogia ma con la cultura della sicurezza. Per cui la formazione, gli affiancamenti, la buona educazione alla cultura della sicurezza è l'unico rimedio perché si possa rispettare la vita umana e dei lavoratori.